Scegli la natura perché è sorprendente, miracolosa, rigenerante, rinfrescante, utile ma poi bella Scegli la natura perché la natura è la migliore medicina, parola di farmacista Scegli la natura per uno sviluppo sostenibile Scegli la natura perché in essa c'è la bellezza del fiore e la forza dirompente di un fiume, non togliamo spazio alla natura Scegli la natura perché è un dono fantastico e va difeso e preservato Scegli la natura perché risveglia le nostre radici, noi siamo parte della natura Scegli la natura ogni giorno perché è salute, cibo e bellezza Scegliete la natura perché la natura senza di noi sopravviverebbe benissimo, noi senza di lei dureremmo forse qualche giorno Scegli la natura perché non produce nulla di superfluo Scegli la natura perché è vita, è respiro, è il prodotto buono sulle nostre tavole Scegli la natura perché la sua bellezza la ritrovi nel sistema delle aree naturali protette della Lombardia